mister è arrivato uno zero zero un punto importante il Matelica ehm torna a muovere la classifica e soprattutto l'ha fatto oggi ha fatto una buona prestazione eh davanti ad un avversario che ha chiuso tutti i varchi e quindi non è riuscita ad arrivare alla rete però eh ha espresso comunque un buon calcio. Sì sapevamo che era una partita difficile come come tutte quest'anno abbiamo sbagliato qualcosina il primo tempo in qualche ripartenza però i ragazzi anche oggi si sono impegnati e volevano portare a casa i tre punti non ci siamo riusciti perché comunque abbiamo trovato una squadra ben messa in campo che ci ha dato filo da torce però ehm ci prendiamo questo punto muoviamo la classifica e e penso che abbiamo raggiunto un traguardo importante con l'accesso ai playoff matematici. Infatti era proprio questa la domanda quanta soddisfazione comunque c'è nonostante ancora tutto da scrivere tutto da decidere però esserci arrivati poterseli giocare è già un onore. Eh penso proprio di sì questo questo traguardo va condiviso innanzitutto con la società che ci sta sempre vicino con con il mio staff o staff medico con tutti coloro che che ruotano attorno al al matelica eh anche da Pietro tutti tutti da te cioè veramente è un penso che sia un traguardo da condividere tutti tutti insieme perché poteva essere impensabile all'inizio dell'anno festeggiare un playoff già due giornate a due giornate alla fine del campionato. Tieni presente che comunque rispetto al girone d'andato ci mancano ci mancano ancora tre punti per eguagliare i punti del girone d'andata e quindi veramente è un percorso importante il girone di ritorno sappiamo tutti che sono partite toste difficili dove le squadre si devono salvare chi chi deve vincere il campionato chi deve entrare nel playoff quindi è un campionato veramente avvincente questo del girone del girone B e noi lo stiamo facendo da da protagonisti non ti nascondo che in campo stavo 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 pensando all'abbraccio del padron a Trieste la prima partita di campionato dove ho proprio avvertito da parte sua il la gioia la gioia del di vedere nel tabellone eh Triestina zero matelica uno no quindi che non ha che non ha prezzo eh mi è passato sto flash in campo è veramente eh è una gioia che va divisa con tutti a proposito di sfide blasonate la prossima è un'altra ad alto contenuto di adrenalina di emozioni perché comunque il matelica va a giocare l'ultima trasferta insomma in quel di Perugia eh che gara sarà adesso c'è qualche giorno insomma di riposo però poi bisogna riattaccare subito la spina sì ho concesso ragazzi un giorno in più ma indipendentemente dal risultato di oggi anche se malauratamente dovessimo avessimo perso comunque i ragazzi rimaneva il giorno in più perché comunque stanno dando tanto poi domenica mattina faremo la rifinitura adesso mi mi godo questo traguardo e poi da domani inizio a pensare io Marco Noviello iniziamo a pensare a questa a questa partita che sicuramente sarà una partita difficile come tutte tutte. Kevin Magdi difensore del matelica oggi uno zero zero importante perché è un punto che permette al matelica di entrare matematicamente nei playoff. Sì siamo contenti di aver raggiunto questo traguardo voglio innanzitutto fare i complimenti ai miei compagni allo staff al mister e soprattutto alle persone che lavorano dietro le quinte come magazzini accompagnatori che senza di loro tutto questo non non potrebbe neanche iniziare quindi siamo molto contenti di questo traguardo ringrazio anche la presidenza per averci dato a tutti queste opportunità e speriamo di finire in bellezza. Oggi è stata una gara difficile perché il Fano è impelagato nei passi fondi della classifica però sappiamo molto spesso che sono questo questo tipo di squadre quelle che vendono più cara la pelle infatti oggi uno zero a zero anche duro c'è stata qualche occasione per il matelica soprattutto nel secondo tempo ma il Fano nel finale ha avuto un colpo di coda quindi uno zero zero insomma un punto importante. Sì è stato il risultato giusto secondo me entrambe le squadre hanno fatto la loro partita noi secondo me abbiamo creato qualche occasione in più non l'abbiamo sfruttata siamo stati sfortunati o imprecisi come vogliamo vederla e quindi questo zero a zero non ci fa demoralizzare anzi adesso restano due partite siccome abbiamo raggiunto questo obiettivo cerchiamo di arrivare più in alto possibile perché il piazzamento in classifica è importante per per quanto riguarda le gare casalingo meno dei playoff. La prossima partita sarà subito una partita difficile perché si va in casa del Perugia che tipo di gara ti aspetti? Mi aspetto una gara come l'andata mi ricordo una squadra bella tosta è organizzata e con qualità se non fosse stata così non sarebbero lì in alto quindi secondo me con molta umiltà dobbiamo andare a giocare la nostra partita come abbiamo sempre fatto e mettercela tutta l'unica cosa che si può fare è questo la prepariamo in settimana con il mister come abbiamo sempre fatto e cerchiamo di fare il nostro meglio.